come sono magra come mi piace così bello essere magri così bellissimo questo è stazione martedì 7 dicembre si vede o non si vede ok io vado al lavoro che comincio prima di 11 mi piace tanto passare questa stazione perché c'è strada anche più più corta più questa strada normale per ogni tanto vado la perché mi qui proprio mi piace oggi è nuvoloso andiamo avanti un po' di fredduzzo c'è però bello asciutto questo freddo asciutto che mi piace tantissimo vi saluto miei cari amici e ci vediamo presto